A Nangrigento, a sud-est, ennesimo crollo del costone, incontrato a Zingarrello, al ridosso del mare, scampata al pericolo una famiglia di cinque persone. Dal 2018, altri cedimenti. A Nangrigento, ennesima frana della fragile falessia del costone Zingarrello, a sud-est della città, al ridosso del mare. Innespiaggia è stata presente imprudentemente solo una famiglia di cinque persone, intente a trascorrere il pomeriggio al mare, e che al momento del crollo sono state fortunatamente in acqua. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. È già accaduto il 16 gennaio del 2022, il 31 ottobre del 2021, il 19 giugno del 2019, e poi a ritrosso nel tempo. Il 24 settembre del 2018, un'altra parte del costone roccioso è precipitata in mare, e poi ancora il 20 agosto del 2018, una porzione crollò sulla spiaggia e le tante persone presenti scapparono a salite dal panico. Più volte, soprattutto da parte dell'associazione ambientalista Mare Amico, coordinata da Claudio Lombardo, è stata sollecitata la predisposizione di un progetto di consolidamento. Lombardo afferma, anche questa volta i bagnanti sono stati baciati dalla fortuna, e solo due sono rimasti feriti di striscio. La Regione Sicilia è pronta a valutare le schede tecniche per intervenire, ma il Comune non ha ancora inviato nulla. La Capitaneria di Porta Empedocle ha disposto numerose ordinanze di interdizione.